Un giorno anch'io me ne andrò via così e non sarò più solo. Verrà a prendermi un cavaliere arabus di un cavallo bianco. Non farai a tempo a girarti che già non ci sarò più. Mamma, papà! E va bene, torniamo in Italia, come vuoi tu? E quest'anno il posto lo scelgo io. No, senti, Leanne. No, no, Nicolò, niente musei, niente scavi, solo libertà e tanta serenità per Barley. Un giorno anch'io me ne andrò via così. 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 A presto. Perché ti sei fatto superare così, papà? Non stiamo mica facendo le corse. E poi, dopo tante ore, sono stanco e seccato. Ma perché hai scelto un posto così isolato? Come si chiama? Pugno chiuso. Ah, già. Pugno chiuso. Peccato non essere tornati ad Amalfi o a Positano. C'erano tutti lì. Qui mi annoierò a morto. Ah, grazie. Anche a nome di nostro figlio. Il mare. Vanni! Dai, Vanni, sbrigati, andiamo! Vieni, Glippe. Corri! Papà! Papà, c'è il mare, proprio qui sotto. Lo credo bene, ci manchiamo pure che non ci fosse. E ora, va a fare un candidato. Passi a fare un candidato. Passo, bispe, va a fare un candidato. Pagà! Appà! Sbrigati! Panna, non hai più fame adesso? Poi le faremo sapere quanto ci fermeremo Bene, signore Buongiorno Signora, prego Tepe, andiamo Su I signori al 360 e al 362 Sì, mando subito la cameriera Benvenuti, signori Il nostro albergo ha tutti i requisiti per attirare una clientela internazionale Certo, è aperto solo da pochi mesi Lei capisce, i nostri ospiti non sono molti Manca ancora quel tocco di mondanità Purtroppo lavoro per un rotocalco E per noi la mondanità fa notizia Qui non ho nessuna diva da fotografare Il servizio sul paesaggio l'ho fatto Non mi resta che andare via Ah, visto che è arrivato fin qui Si prende una bella vacanza Resti ancora qualche giorno, non si può mai sapere Oggi, per esempio, è arrivata una famiglia americana Padre, madre e figlio Un ragazzetto I signori Kingsburg Alta finanza, miliardari Gente bene Jet set E la signora, senza essere una diva, è molto bella Sono venuti con una Rolls Royce? A Briole Allora li ho superati a pochi chilometri da qui E il figlio è un biondino, vero? Si Anche la signora è bionda Con degli occhi azzurri e luminosi Potrei fare in modo di presentargliela Scriva di loro citando l'albergo Sarebbe un'ottima pubblicità per noi Scriviti al nostro canale 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 Scriviti al nostro canale